Gruppo sanguigno introvabile, sospensione di tutti gli interventi chirurgici che necessitano di zero positivo. A comunicarlo il centro trasfusionale dell'ospedale di Venere che approvvigiona anche alcune strutture private. La richiesta di sangue indirizzata alle altre regioni questa volta non può essere soddisfatta. La Puglia in quest'ultimo periodo ha dato fondo alle scorte chiedendo 600 sacchi di sangue agli ospedali del Nord, al costo di 200 euro l'una. Tre giorni fa l'ultima richiesta attraverso il portale nazionale Sistra per 260 unità, delle quali oltre la metà del gruppo sanguigno introvabile. Nessuna risposta. Evidentemente negli altri ospedali della penisola si tende a garantire l'autosufficienza e con l'inoltrarsi della stagione estiva la situazione non può che peggiorare. Tra gli esperti del settore non si esclude che le attività operatorie possano subire la paralisi totale. Un punto della situazione è stato fatto nel corso di un incontro con i trasfusionisti regionali. Ma rispetto ai 24 centri trasfusionali esistenti in Puglia il problema ora diventa di natura politica. La carenza di sangue è al centro di un'interrogazione all'assessore regionale alla sanità. Sebbene l'idea è quella di promuovere una nuova campagna di raccolta attraverso le auto e emoteche, i problemi maggiori riguardano la messa a norma dei centri trasfusionali che dovranno mettersi al passo con le nuove norme per l'accreditamento, almeno per quanto riguarda i certificati antisismici e quelli antincendio. Diversamente non sarà possibile procedere con la raccolta di sangue che potrà essere fatta solo nei centri autorizzati, non più nelle parrocchie o nelle scuole. Rimane il dato principale, ovvero il calo delle donazioni. Sulla raccolta sangue la Puglia ha sempre fatto la sua parte, riuscendo a esportarlo anche in altre regioni, ma in un anno il calo è stato considerevole, meno 8%, pari a circa 4.000 donazioni in meno.